buonasera a tutti allora niente di che stamattina sono stata alla ferra di sant'agata se ci siete stati raccontatemi un po in caso poi registrarò questo blog un'altra volta no dai scherzo allora oggi pomeriggio sono stata a casa di alessio grillo che molti di voi non lo conosceranno mio compagno di squadra cioè facciamo basket insieme e di solito andava anche a casa dopo lo incontravo ma per vedere una sua o di un suo problema non viene più da diversi fino a marzo non verrà per diversi motivi non verrà ma in caso ci incontriamo quando ne ha voglia a casa sua e quindi ci sono stata oggi ed è stato bello di incontrarlo perché è praticamente è bravissimo e quindi mi mancava un botto allora per oggi è tutto lasciate like iscrivetevi al canale se volete unirvi all'asa family e noi ci vediamo domani con un nuovissimo blog ciao ciao